Ciao a tutti ragazzi, io sono Robby e ho appena invitato Dani a venire qui da me Ma quello che non sa è che ho piazzato per tutta la stanza delle telecamere In modo tale che quando verrà da me potrò spiare ogni singolo suo movimento E le preparerò dei test per vedere come si comporta la mia ragazza Se è una persona di cui posso fidare e amare per sempre oppure no Davvero ragazzi non vedo l'ora Voi però nel frattempo lasciate un bel like e commentate qui sotto nei commenti Scrivendo altri challenge, sfide o scherzi che potrei fare con Dani Il piano è semplicissimo Quando verrà qui le manderò un altro messaggio in cui le dico che ho avuto un contrattempo o qualcosa da fare E che quindi mi deve un attimino aspettare Mentre invece raga starò semplicemente nascosto a guardarla dallo schermino del mio telefono Mi è appena arrivato un messaggio proprio da lei ragazzi Guarda che sono quasi arrivata un minuto e sono da Dani Perfetto è il momento di nascondermi Mi nasconderò qui in bagno Tanto in questo bagno Dani non viene mai perché è troppo piccolo secondo lei E quindi è un nascondiglio perfetto Robby, è arrivata Robby, non c'è nessuno Vabbè, aspetterò qua C'è sempre il solito disordine in questa stanza Non ci posso credere Raga, Dani è arrivata E a subito è iniziato a lamentarsi Vabbè, il primo test infatti è vedere se mi metterà a posto o la cameretta In realtà Robby dovrebbe imparare a mettersi la roba da sola a posto Però ha bisogno di me Ok Inizierò a mettergli a posto tutta la stanza Questi devono stare al posto loro E la bomba qua Ma non c'è posto Vabbè, appaggerò qui Sì ragazzi, lo sapevo che è la donna della mia vita Prima prova superata Io sono un po' disordinato Mentre lei invece è molto ordinata E di conseguenza Insieme ci completiamo Io faccio il caos E lei mette la tranquillità Sono dieci minuti che sta mettendo a posto Però ancora non mi manda neanche un messaggio Per chiedervi dove sono La seconda prova sarà proprio questa Quanto tempo resisterà senza di me? Io ne do massimo un altro minuto e mezzo Se non si accorge che sto facendo troppo tardi Fallirà la prova E non sarà quindi la donna della mia vita Mi sono scorciata di mettergli la roba a posto E poi dove si è cacciato Ma... Ma chi li sono? Ma... Ma... Ma perché ci sto mettendo così tanto tempo? Forse... Forse dovrei chiamarlo E dire che mi sono scorciata di mettere in ordine la sua stanza Mmm... Vabbè... Mi inviarò un messaggio Dani è riuscito ad accorgersi Della mia assenza Prima della fine del tempo È una cosa positiva Però ha borbottato tutto il tempo Non so se dire che ha superato questa prova o meno Mmm... Un attimo però Mi ha inviato un messaggio Ascoltiamolo assieme Robby ma si può sapere dove sei finito? Cosa stai facendo? Io sto qui in camera tua E tra l'altro la sto mettendo a posto Da un sacco di tempo Muoviti No 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 mia cara Dani Non funziona mica così All'uomo della tua vita Non puoi mica dire Ehi tu muoviti Io metto a posto Sbrigati Vieni qui Dovresti dire Ehi cucciolotto mio Ti sto aspettando Tornate alle mie braccia Perché mi manchi Però La sfida era Mandarvi un messaggio Prima di arrivare a me Quindi siccome io sono buono Sfida superata Per la terza sfida Dovrò aspettare un bel po' Perché Dani si dovrà scocciare O andare al bagno O andare a bere Insomma dovrà uscire dalla stanza E ho preparato una bella sorpresina Per vedere se lei è onesta sempre e comunque Ma mi sto annoiando tantissimo Ma cosa mi ha fatto venire a fare qua? Sta decisamente perdendo la pazienza Tra un po' potrebbe o arrabbiarsi O andare via E il piano fallirebbe No 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 La mia ragazza non può Smettere di aspettare il suo amore eterno Cioè se partissi per un viaggio Non mi aspetterebbe al mio ritorno No 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 Deve resistere Se ha detto che arriverà Arriverà E se forse mi sto mentendo Non arriverà mai No 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 Io mi fido di Robby Ben detto Dani Sai che ti puoi sempre fidare di me Neanche l'acqua in camera E il mio momento ragazzi Dani è uscito dalla sua stanza E quindi devo muovermi per preparare il piano per la terza prova Questo carrellino andrà benissimo anche se è super sporco Presto 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 devo portarlo nell'altra stanza prima che torni Ok qui va benissimo Il tavolino è pronto E adesso metterò 1000 euro qui sopra Vediamo Dani se li lascia oppure se li prende Questo qui è il test finale Secondo voi Dani li prenderà oppure no? Ovviamente la donna della mia vita Deve resistere a questa fortissima tentazione E aspettare che arrivi il suo uomo Sta arrivando Corriamo corriamo Questi che cosa sono? Robby Robby Ma quanti soldi? Tutti i soldi che vi servirebbero per comprarmi la borsa che voglio Eh sì Dani Sai quante borse potresti comprarti con tutti quei soldi? Però non devi toccarli Altrimenti non sarai mai la donna della mia vita Hai superato la prova dell'ordine Hai superato la prova della pazienza Dai supera anche quella dell'onestà Solitamente i soldi si mettono in posti sicuri Perché lasciarli qui? Doni pensa Se prendi quei soldi nessuno se ne accorgerà Quindi forse se prendi 50 euro Nessuno si accorgerà di nulla Non lo so E se poi qualcuno se ne accorgesse? No 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 Forse li devo rimettere a posto Oh Cosa faccio? Si era messa in tasca dei soldi Ma poi li ha rimessi a posto La vedo molto molto in difficoltà La lascerò un altro po' Da sola con quei soldi Vediamo se la fine cede alla sua parte cattiva Oppure a quella onesta e buona Ma questi soldi? Da dove sono sbucati? Robby Secondo me si nasconde qui da qualche parte Robby 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 Qui non c'è nessuno Se non sono di Robby non c'è nessun altro Questi soldi li ho trovati per la fortuna Farò finta di niente Farò finta di niente e magari quando Robby torna Li dividerò con lui Si ma dai In parte mi comprerò una forza e in parte saranno di Robby Credo che sia un buon piano Non ci credo Non ci credo Si è presa metà dei soldi Però l'altra metà ha detto che vuole darla a me Ed è anche vero che pensa che quei soldi siano di nessuno Ma come fai a pensare che non sono di nessuno? È casa mia pur sempre Cioè tu è a casa di qualcuno Con un paio dei soldi su un tavolo e dice Ah non sono di nessuno Ma è certo che sono di qualcuno Mica crescono sugli alberi No Dani non lo fare Le darò un'altra piccola possibilità La Dani che conosco io non è così Se se li mette in tasca esco da qui e dico che ha fallito la prova Vediamo Quasi quasi No Dani tu devi lasciare di questi soldi Però con questi soldi magari potrei fare tanti regali a Robby Quindi Robby mi perdonerebbe Si si Robby Robby sicuramente non ci farà a caso Lo mettiamo in qui Non lo so Non lo so Dani Dani no No Queste cose non si fanno Quindi anche se puoi far contento il tuo fidanzato Comprarti una borsa Fatti una vacanza Non puoi Quindi no Devo lasciarli qui Magari aspetto Robby Ne parlo con lui E poi vediamo Se esce da qui qualcosa per me E qualcosa per lui È andata a un passo così Dal metterseli in tasca Altro che regali per Robby Ragazzi lo so io Cosa avrebbe fatto Dani Si sarebbe comprato un gelato E ci avrebbe messo sopra Cento strati di panna Nutella Fiordiratte Frango E tutte queste cose qua Altro che regali per Robby Però devo dire Prova superata Alla fine Ha scelto Di aspettarmi E parlare con me Di quei soldi Quindi ragazzi Adesso esco da qui E vado dalla mia Dani Robby Fai silenzio Fai silenzio Come fai silenzio Perché Dani? Ho trovato Un sacco di soldi E non so di chi sono Beh Dani Sai chi ha messo Questi soldi qui? Il sottoscritto E so anche che hai provato A metterteli in tasca Prima solo 50 euro Poi tipo la metà Poi volevi comprarti la borsa Fare la vacanza Far finta di farmi i regali Anche se lo so Che non le avresti mai fatti I regali a me E tutta questa Era una prova In realtà Le prove erano tre Per vedere se eri La donna Della mia vita E le prove le ho superate tutte Vero? Sì io sono bravissima Hai visto? Che mi puoi mettere la prova Quanto vuoi Ma io vinco sempre In realtà L'ultima prova Gli ha dato Un bel po' di problemi Ma alla fine L'hai superata E adesso Con questi soldi Ti porterò A mangiare fuori Contenta? Sì Ci sarà tanta nutella Tanti piatti Un gelatone gigante Sì sì Andiamo Andiamo Sono contentissimo Sì sì E voi ragazzi Avreste superato Tutte e tre le prove? Ci vediamo quindi magari In un prossimo video Ciao Ciao Noi andiamo a mangiare Io sono Ciao